Ok, ho un po' di spazzatura nel dammuso. Un po' come si vede. Accendiamo, dai! Mmm, come si vedrà? Ah, è che si vede abbastanza bene! Con questo gigantesco tubo catodico. Un tubo catodico per raspberry pie. Ok, allora va aperto col tremel con delicatezza. Ok. 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 È un tifone della madonna. Sempre peggio. Ok. 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 Ma questa roba, che c***o è? Allora mettiamo che siamo su questa frequenza E devo trasmettere Quindi andrò Io per regolare lo metto in AM Perché così esco con una portante Abbasso la potenza al minimo Questo è il volume La potenza RF è questa 100 Watt minimo Così quando trasmetto Transmit Vedi Un po' la riflette E un po' la manda Se stacco il tuner Siamo lì Allora che faccio Trasmetto a bassa potenza E regolo Intanto posso regolare con l'audio Quindi con quello che ricevo Senza trasmettere Vado in Tune Vedi L'ago si sposta Ecco Diciamo che così è il massimo Poi già anche se muovo questo Mi si sposta E se sposto questo qua Anche Però posso adesso andare a trasmettere Transmit E regolo Finché non abbasso la parte Reflected Al minimo Ecco Adesso è Tuneb Adesso sono regolato Se alzo la potenza Come vedi esco E non ho nessuna parte Riflessa Vuol dire che ho accordato L'antenna Usbl Usbl L'ho trovato il mio animaletto domestico L'ho trovato Eccolo Ma buongiorno Quando la pagina web non carica Esad L'ho trovato il mio animaletto Rapido 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 Mas rapido E ce ne sbattiamo del flusso magnetico noi Perché lo leggiamo direttamente Rapido Il maledetto La preparazione Del viaggio La preparazione Del viaggio È tutto a posto Ora ho messo il filtro Il passabasso Per l'FM Ma non è che cambia molto In questo momento Arriva un po' meglio Se tocco La massa Ma non è che cambia molto Percettuale di consenso nei sondaggi Il filtro Il filtro Il filtro Il filtro Il fuori Pueta Si Giornata grazie a tutti ora è completo grazie a tutti 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 vi provo uno per uno ma succede che tutti mi fanno questa cosa prima non si sentiva un cazzo e ora invece subito volume sparato al massimo e non so che cazzo fare volume troppo alto allora qua abbiamo il pcb con questi due cazzo qua che sono i supporti però se io ruoto questo questo sta fermo questo sta fermo non capisco per quale cazzo di motivo questi sono legati sono connessi al condensatore variabile quindi non c'entrano niente il pcb è attaccato a questo che non esce neanche per il cazzo non esce non si muove e questo qua è avvitato chissà dove porco come scaldare il caffè di ieri grazie a tutti 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 E niente, è sempre una soddisfazione. Questa è il Rai 1 sulle onde medie, perché ha un sacco di disturbi ovviamente, però onde lunghe, ovviamente qui un cazzo di nulla, anche se in teoria potrebbe arrivare qualcosa qua sotto, ma sono masturbi. Mentre l'FM, l'FM è muta. L'FM è totalmente silenziosa. Tuner e analizzatore d'antenna. Molto semplice e banale. Sì, ma io avevo sta merda, capisci? Che non puoi tenerla in mano che ti scappa via. E allora devi, devi, cioè, vedi, tu devi fare così, devi schiacciare le cose e ti scappa, è piccolo, non... Il dito è qua, non è qua, ti viene il cazzo in culo a fare così, porco... Il mio primo oscilloscopio, che devo mettere a posto perché... Ci sono questi. Questi mi preoccupano di meno, ma questi... Rappresentano Satana. Guardate, un bel esperimento. Questa è Radio Charleston. Sentite? Guardate ora quando accendo questo alimentatore. Solo lui scollegato dalla radio. Solo l'alimentatore. Vado! Vado! Wow! Che bello, eh! Che bello alimentatore per PC del cazzo! Ora lo spengo. Bene, domani mi sa... Che la riparerò. Perché... È un po' sorda. Veramente carina. Ce l'ho da un sacco di tempo e non ha mai funzionato bene. È sempre stata sorda. Per cui mi sa che... Mi sa che gli darò una sistemata domani. Godo! Ovviamente non ci sono altre stazioni se non la RAI adesso, però godo! Il mio tesoro! Ma vaffanculo! Beh, non potevo andarmene stasera senza resuscitarne almeno una, un cesso, però funziona! Le meravigliose superpila al cancro! Pazzesco! Pazzesco! Il mio tesoro infatti è iniziato il 17 settembre 2019 dal BAM Howard, da Opera House, è concluso l'occhio della cornice del gra... E' buona idea! Conoscete questo... Essere maschio significa... Quindi sicuramente... Vorrei commentare con voi questo fatto... Questa radio... Che era... Che era... Messa da parte... Ed è mia adesso, mia! Si è accesa con una potenza spaventosa, con un audio spaventoso! Perché qualcuno aveva dimenticato dentro queste batterie che sono perfette... Perfette... Con data... Del 98! 1998! 23 anni di batterie! E adesso vi faccio vedere... E adesso vi faccio vedere... Bene, questa radiolina russa è strana... Perché... 100 kHz... E' a onde lunghe! Almeno credo! Perché qua... Mi dà... Mi dà... Mi dà la M... Da 148 a 285... Boh... Kilohertz... Io a questo punto non lo so... Merdugua! Come cazzo si chiama? Merugua! Il T310... Mi sono messo a riparare la stufa del suicidio... E' bellissimo perché è tutta isolata in ceramica... C'è solo questo supporto che è rotto... Questo isolamento centrale in ceramica... Ma la resistenza è a posto... Pezzo di ferro con cementata la resistenza all'interno... Penso che la rimetterò in funzione... Devo controllare il cavo... E poi mi suicido... Guardate... Il mammut in ceramica... Mammut in ceramica... Come cazzo l'hanno fatto? Hanno... Hanno... Questi scorrono... Se togli le viti escono... Fantastico! Ehm... Diciamo... E' andata in modo un po' più complicato di così... Sugadai Ratengu! Tenta però ancora a scendere la curva dei contagi... Vaffanculo! Io volevo ripararla cazzo! Rompiti! Rompiti! Beh... Questo se funziona è figo... Completamente autocostruito... Anche il mobile... Notare i dettagli... Ben 7 watt... Con adesivi fancy... E dentro... E' una specie di... Troiaio di Voitila... Neanche tanto male... Però montato... Montato come una TV... Una volta... Con... Questi cosi qua... Transistore avvitato sul legno... Qua c'è lo schema di montaggio del... Dell'alimentatore... E qua c'è un kit che è... Forse... Boh... Il controllo dei volumi... Qui c'è l'uscita altoparlante... L'ingresso della preamplificazione... E il preamplificatore in docazzo è... Bu... Sarà questo... Preamplificatore... Amplificatore... Finali... E probabilmente... L'ingresso è qua... L'uscita delle casse... E questa... E qua forse c'è un altro ingresso... Bucchi per il raffreddamento... Legno di recupero... Semplicemente fantastico... Ah... Ovviamente è completo... Completo del suo coperchio... Perfettamente a misura... Medallà... Ok... ... E' sicuramente l'ammane accettava il mio cuore e il mio cuore il dischi Grazie a tutti.